Quali sono le intolleranze alimentari? Abbiamo sempre consumato come glutine o come altri alimenti perché sotto di fondo i nostri alimenti non sono più come quelli di una volta ma sono alimenti ormai industrialmente confezionati quindi traditivi, conservanti, coloranti e OGM, le proteine, le vitamine eccetera non riusciamo più a vederle come quelle di una volta e quindi non riusciamo a aprire gli enzimi per digerirle e il sistema immunitario a questo punto forma anticorpi, le GG, che reagiscono in senso infiammatorio. Grazie Grazie